Marco Travaglio, il Presidente del Consiglio Draghi vara la riforma sulla concorrenza, ci sono alcune importanti novità, ci sono alcuni significativi rinvii. Draghi però rivendica un'operazione trasparenza, nel senso che dice che bisogna che l'opinione pubblica sappia in che termini sta la questione e quindi facciamo e rendiamo nota la mappatura delle concessioni, dei permessi e di quanto i singoli, nel caso specifico ambulanti o proprietari di stabilimenti balneari pagano allo Stato, perché come tu sai spesso pagano zero praticamente. Quindi questa è stata una saggia decisione intanto secondo te? Beh è un rinvio, qui di balneare oltre ai balneari delle spiagge c'è un governo che è sempre più balneare e sarà sempre più balneare a mano a mano che si avvicineranno prima le elezioni della Presidente della Repubblica e poi le elezioni politiche. Chi pensava che si potesse comprimere la politica, la dialettica, il sano scontro, il sano conflitto, non quello pretestuoso, quello vero, quello tra gli ideali, le idee, le ideologie, vogliamo chiamarle come vogliamo, gli interessi dei vari gruppi di pressione che poi sono nient'altro che associazioni di categoria, cittadini che rappresentano ciascuno il proprio interesse e che lo riversano sulle varie forze politiche perché quegli interessi rappresentino e si sta riprendendo il suo posto. Chi pensava che la politica potesse essere costretta in una camicia di forza dove spariscono tutte le differenze e si fa una grande ammucchiata in cui tutto è diluito e affidato al potere taumaturgico del Premier si sta rendendo conto che la politica non può restare in sonno per troppo tempo. Se è una soluzione provvisore di qualche mese ci può anche stare ma adesso quella camicia di forza si sta sbrindellando e sempre di più noi vedremo gli interessi e le idee dei partiti riaffermarsi perché si avvicina il momento in cui quei partiti dovranno rendere conto ai cittadini di quello che hanno fatto, di ciò che gli avevano promesso e dato che gli avevano promesso cose diverse se non opposte, tenerli tutti insieme è una finzione perché poi staranno tutti dentro ma in realtà sarà come se stessero tutti fuori e chi ne farà le spese naturalmente sarà il Presidente del Consiglio che dovrà o rinviare tutto oppure sottoporsi a estenuanti trattative che non sempre producono compromessi nobili come abbiamo visto nelle concorrenze dove di concorrenza se ne vede ben poca. Si butta la palla in tribuna dicendo facciamo un'altra mappatura. Diciamo che questo da un punto di vista del governo Draghi è stata la notizia di oggi poi però neanche tanto sullo sfondo ci sono partiti come la Lega e come il Movimento 5 Stelle che al loro interno hanno fortissime fibrillazioni nella Lega vanno alla conta praticamente lì tu pensi che perché Salvini ha detto prima di cominciare il Consiglio federale io ascolto tutti e poi decido io anche perché lui è il segretario della Lega quindi è ovvio che alla fine deciderà lui ma lì invece ci sarà un vinto, un vincitore secondo te? Sai sono due leghe ormai in questo finale di legislatura noi abbiamo soltanto un partito monolitico che è il partito della Meloni perché è un partito che è in grado di garantire il posto di parlamentare a tutti quelli che ce l'hanno adesso e a qualcuno in più nonostante il taglio dei parlamentari perché la Meloni ha quadruplicato i suoi consensi almeno stando ai sondaggi e altri partiti sono tutti due almeno partiti in uno poi c'è il PD che ne ha sempre sei o sette in uno e l'abbiamo visto quando hanno dovuto confrontarsi con l'elezione dei loro capigruppo adesso sta toccando ai 5 Stelle, la Lega ha due partiti in uno di solito nei partiti vince chi ha i voti chi è che ha portato la Lega dal 5% in cui l'aveva ereditata ai tempi di Maroni in pochi anni al 35% delle europee e al 20% che più o meno dovrebbe avere adesso Salvini, non certo Giorgetti Giorgetti c'era già ai tempi di Bossi poi ai tempi di Maroni poi ai tempi di Salvini non è che in questi anni Giorgetti non si è accorto che Salvini era alleato con le peggiori destre d'Europa non è che non ha partecipato ai comizi nei quali si vedevano anche i saluti fascisti non si capisce bene dove stesse in tutti questi anni quando veniva eletto grazie ai voti che portava prima Bossi e poi Salvini perché la Lega quello è quelli sono i leader che portano i voti alla Lega se la Lega dovesse diventare un semolino europeista, pettinato, allineato e coperto non avrebbe più ragione di esistere potrebbe diventare una costola di Forza Italia non si capisce perché Giorgetti sia ancora iscritto alla Lega anziché a Forza Italia per esempio visto che ha le stesse posizioni di Forza Italia io credo che finché Salvini avrà consenso vincerà Salvini ma io una Lega di Giorgetti francamente non capisco che mercato possa avere nell'elettorato italiano quello spazio lì è già coperto da Forza Italia in parte da quei centrini che stanno dall'altra parte calenda, quel che resta di Italia Viva, un pezzettino di Bonino ma non vedo grandi spazi